Diciassettesima domenica del tempo ordinario, la bellissima liturgia della parola ci propone, la prima lettura, il sogno di Gabon, il momento in cui Salomone, giovane, deve rispondere a una domanda molto seria che il Signore gli fa in sogno. Dimmi che cosa ti devo dare, dimmi cosa vuoi che io ti conceda, ha l'occasione di poter chiedere di tutto a Dio. Come scegliere la cosa migliore? Ecco, Salomone, che sarà il maestro della saggezza, si mostra subito molto saggio. Anziché chiedere una cosa buona, chiede di saper scegliere le cose buone. E' questo il punto, di avere la saggezza, di non fare bene questa scelta, ma far bene tutte le scelte. E' questo il senso che ci prepara anche ad ascoltare la lettura del Vangelo, che ci pone di fronte alla parabola dell'uomo che trova un tesoro e lo nasconde, poi va e pieno di gioia vende tutti i suoi averi per comprare il campo dove ha trovato il tesoro. Ecco, è interessante che la nota di questo uomo che va pieno di gioia, la gioia. Noi abbiamo avuto un po' la tendenza a pensare che il cristianesimo sia una questione di rinunce. Invece qui scopriamo che non è una questione di rinunce, ma una questione di vere acquisizioni, cioè di prendere un tesoro che valga veramente la pena. Infatti c'è poi la parabola della mercante di perle, è trovata una perla di grande valore. Ecco, trova il valore. Trova una cosa che vale tutto. Ecco, trovare una cosa che vale tutto. Questo è il punto. Trovare Gesù Cristo è trovare una cosa che vale tutto. Vale la pena di perdere tutto per avere Cristo. Perché chi ha Cristo ha tutto, anzi c'è una regola. Chi sceglie il mondo anziché Cristo non avrà né Cristo né il mondo, perché il mondo è ingannevole, è evanescente, per cui quel che si pensa di possedere nel mondo poi si perde sempre e comunque. Invece chi sceglie Cristo anziché il mondo avrà e Cristo e il mondo, perché il mondo non rappresenterà una trappola per lui, per il distacco di aver scelto Cristo. Avrà un uso equilibrato e pieno delle cose, perché non sarà schiavo delle cose, ma padrone delle cose. Ecco, curiosamente, scegliere la perla preziosa vuol dire trovare quello che dà un parametro a tutto. Infatti, si continua nel testo del Vangelo con il tema del parametro. I pescatori rappresentano il Regno dei Cieli nel loro atto di selezionare i pesci buoni e buttare via i pesci cattivi una volta che hanno pescato. Ecco, questo è un atto in cui dobbiamo esercitarci parecchio. Ci sono cose buone e cose cattive, cose che ci danno la vita e cose che ce la fanno sperperare. Non aver paura di buttare via i pesci cattivi. Non bisogna mai aver paura di buttare via le cose che non valgono, le cose che non meritano. Ecco, noi dobbiamo saper scegliere i pesci buoni. Questo è il punto. Chiederci sempre che cosa vale la pena di trattenere. Non dobbiamo mai dimenticare la indicazione dalla Papa Francesco in quel famoso venerdì di Quaresima, al tempo del lockdown, quando fece questa domanda dopo questa preghiera drammatica da solo in Piazza San Pietro. Cosa conta veramente? Cosa conta? Questo è il momento di domandarsi cosa conta molto spesso nella vita. È questa la domanda a cui dobbiamo saper rispondere. Cosa conta veramente? Chi sa rispondere a questa domanda ha la chiave di tutte le risposte. Chi conosce la perla preziosa? Conosce il valore delle altre perle? Cioè conosce la relatività delle cose? Conosce il poco diritto che hanno le cose di possedere il nostro cuore? Ecco, forse questo tempo anche estivo, che è un tempo che certe volte riesce ad essere un po' più rarefatto, è il momento di prendere in mano la propria vita, fare un po' il punto, ricordare come abbiamo vissuto questo anno e cosa c'è da tenere e cosa c'è da buttare via. In cosa dobbiamo approfondirci? In che cosa dobbiamo diventare superficiali? Che cos'è che dobbiamo buttare via e che cos'è che dobbiamo invece tenerci stretti? Questa è la chiave della sapienza, la sapienza che ci porta a selezionare le cose nuove e le cose antiche per quel che sono, le nuove per le nuove, le antiche per le antiche. C'è il valore del nuovo e c'è il valore dell'antico. Non confondere un nuovo come antico e non confondere un antico come nuovo. Questo bisogna sempre stare attenti. Ma è anche il caso di aggiungere una lettura cristologica di questo Vangelo. Chi è colui che ha venduto tutto per comprare il tesoro? È Cristo quello che ha rinunciato a tutto per prendere il tesoro. Il suo tesoro siamo noi, siamo noi la sua perla preziosa. Cristo ha pensato di non tenere come tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, come dice il secondo capitolo della lettera ai filippesi, ma spogliò se stesso per averci, per venire a amarci, per venire a riscattarci. Noi senza prezzo fummo venduti, dice il capitolo 52 del profeta Isaia, e saremo riscattati senza denaro per grazia. Ecco, lasciamo che il prezzo che Cristo ha pagato ci compri, lasciamo che questa parabola ci dia il nostro valore. Noi siamo la cosa che Cristo ha ritenuto valida. Valeva la pena per Cristo di dare tutto per avere noi.